Ora, in questo momento, siamo nel primo minigioco, che è praticamente 1, 2, 3 stella. Ci avete mai giocato? Ora ve lo faccio... Eh, top! Mamma mia, guardate la gente che viene colpita! 1, 2, 3... stella! Mamma mia, che paura! Praticamente, quando quella bambola si gira, noi dobbiamo fermarci! Prima che sia troppo tardi! Ma quanta gente stanno facendo fuori? Ok, 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 calmi, calmi, stop! Mamma mia, se sto resistendo! Mamma mia, sono rimaste 50 persone! Fermati! Mamma mia, non vedo quando si gira lei! Devo andare verso di lei! Ok, ci sono, ci sono, ci sono! Stop! Uh, che rischio! Vai, 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 vai! Sì, ce l'abbiamo fatta! Il primo minigioco è andato!